Vanni, insomma, io so che a te mi accomuna un po' questo sentimento di vedere la vita in modo più favolesco, se vogliamo, però poi alla fine, porca miseria, la soddisfazione della vita è anche vivere i rapporti umani in un modo diverso da come ce lo vogliono far passare, eppure sembrerebbe che per fare cassetta, per fare numeri, soprattutto i media, oggi non fanno altro che inventarsi queste contrapposizioni, uomo, donna, femminicidi, media, eccetera, eccetera, patriarcato, non patriarcato, insomma, tutte puttanate che servono probabilmente a fare un po' di numeri per loro, ma a distruggere ancora di più la società. Ecco, a te chiudere questo primo giro di opinioni su questa questione, prego. Ora, sono d'accordo con te Fabio, il problema vero che abbiamo oggi è la mancanza di un modello a cui aspirare, di un archetipo, se vogliamo usare una parola che sarebbe ancora più adeguata. C'è, come al solito, la banalizzazione delle cose all'estrema superficie, e quindi la questione diventa che i maschi, soprattutto se i bianchi ed eterosessuali sono fondamentalmente i male di questo mondo, e dovrebbero chiedere perdono solo per il fatto di esistere. Chiaramente è un punto di vista di una superficialità che sarebbe ridicola in un altro spazio tempo, peccato che in quello in cui viviamo è stata ripetuta talmente tante volte che, così come tante altre menzogne, sono penetrate all'interno di quella che si può chiamare la coscienza collettiva. Invece esiste un archetipo molto bello, ognuno si può anche andare a scegliere il suo, cioè di vedere se stesso come vorrebbe realizzarsi nel mondo, secondo quali valori, perché vedete in tutti questi discorsi manca sempre il punto centrale, cioè quali sono i valori che mi muovono, che cos'è che io sto ricercando in qualche maniera di rappresentare nella mia vita. Alessandro diceva giustamente che oggi abbiamo dei maschi che sono fragili, e Alberto diceva anche che sono magari poco interessanti per le donne, ma perché? Proprio perché in qualche maniera non hanno ricercato la cosa più interessante in assoluto, in primis per se stessi, che è chi sei tu, in che direzione stai andando, come ti vedi, come vuoi raffrontarti con l'altro sesso. E per esempio il modello del cavaliere, noi l'abbiamo completamente abbandonato, sembra una cosa di un altro mondo, neanche della terra. In realtà era un modello per esempio maschile, estremamente raffinato, estremamente bello, che pone la donna non in una condizione di minoranza, ma la esalta, ne esalta le differenze, ne esalta la bellezza, ne esalta l'intelligenza, l'intuizione, e la capacità di osservare la natura e le cose, le interazioni umane a un livello molto più complesso di quello di cui lo stesso maschio invece è in grado di fare. E quindi si propone ad essa attraverso una forma che è di rispetto. In una società veramente patriarcale queste cose non esistono, semplicemente perché un uomo, la donna non la tocca letteralmente neanche con un fiore, perché nel momento in cui lo fa perde la sua caratteristica di essere uomo, la sua caratteristica che gli dà la possibilità di guardarsi allo specchio ogni giorno con una certa possibilità, perché significa che stai cercando di portare avanti te stesso in una certa direzione e con il farlo lo diventi. Quindi c'è bisogno di una direzione da parte della società che sia completamente diversa al posto di continuare a far disperdere nel nulla, continuare a trasformare le donne e gli uomini stessi in oggetti di consumo, vi ricordate da consumatori siamo diventati oggetti di consumo, bisognerà tornare invece a riprendere quelle che sono i valori etici che muovono nella vita, perché sono quelli che sono in grado non solo di rendere la società molto più bella, ma in qualche maniera se rappresentati di poter dare una boccata di respiro, perché non può essere tutto così superficiale, inutile e triste ciò che viviamo. L'essere umano in realtà è capace di movimenti enormi e di grande bellezza, perché nel passato li abbiamo già avuti, bisognerà che la gente cerchi di capire quali sono i valori che vuol trasmettere ai figli, perché i figli tra l'altro non seguono semplicemente le parole, ma seguono i fatti, vedono come ti comporti, per cui bisogna essere in grado di aver definito se stessi, almeno un'idea di se stessi e nella vita cercare di realizzarla, altrimenti si è bandiere perse al vento.